Del suo campionato Moretti esce dai blocchi da tre, eccolo qui Davide Moretti Paneggio insistito poi sul jump sul gomito, eccolo qui il canestro di Davide Moretti Prova a suonare la carica per la sua, corre dall'altra parte, meno 5 alla palla in mano Davide Moretti, il jump nel cuore dell'area a realizzare Il pallone per Moretti si alza subito, è la tripla della parità a quota 82 Tanto questa è la tripla realizzata in...